La quarantena per il coronavirus è diventata una barriera sociale in quasi tutto il pianeta. Per qualcuno è persino un secondo ostacolo, che si aggiunge a quello che da sempre impone il mare. Per chi vive sulle isole è l'era dell'isolamento al quadrato. Gli sterminati oceani non sono bastati per bloccare il virus più aggressivo dell'ultimo secolo. I collegamenti, invece, si sono fermati. Aerei a terra e navi in porto. Così la vita sulle isole si complica ulteriormente. Con la quarantena è tutto più difficile. Sia per chi vive in uno sperduto tollo, sia per chi si trova a poche miglia dal continente. Io sono Nicola Pinna. E io Filippo Femia. Questo è Quarantine Island. Da Budeglia le Faroe, in questo podcast partiamo per un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus. Sia per chi vive in un viaggio che racconta la nuova vita nelle isole ai tempi del coronavirus.